Sono Max Serra di Falco, vengo da Palermo, sono un fotografo paesaggista satellitare. Nel 2011 ho ideato questo progetto Web Landscape Photography. Il mio concetto è quello di continuare a essere un fotografo paesaggista, un vero fotografo, utilizzando internet e i satelliti, quindi continuando a fare fotografie attraverso il canale Google Earth. Ogni mia fotografia ha una sua caratteristica dove puoi anche immaginare altro. Sono a volte molto astratte, a volte molto figurative, ci si può immaginare quello che si vuole attraverso la vista satellitare. L'importanza del VR Festival nella società italiana di oggi? Penso che sia molto importante perché tutto ciò che è innovazione, tutto ciò che è un punto di partenza è sempre un trampolino verso l'ignoto, verso qualcosa da sperimentare, da provare e da affermare. Quindi come anche la mia fotografia, anche questo festival è qualcosa che secondo me è molto importante per l'Italia dove c'è bisogno di reinventarsi, riproporsi e sono una grande sfida. Tra l'altro ho fatto anche molto bene, quindi penso che sia un progetto eccezionale.